Etica e trasparenza in Europa, questo l'obiettivo dell'Unione Osteopati Italiani. Un'associazione sindacale di categoria, la prima in Italia, che tutela l'osteopata professionista, lo studente in osteopatia e l'esperto in osteopatia animale. È la prima associazione sindacale iscritta al Registro per la Trasparenza Europeo e siamo accreditati a Bruxelles. Questo ci permette di dare anche un approccio più trasparente ed etico a quello che è la nostra professione e nella rappresentatività a livello del Parlamento Europeo. Ci chiamiamo Unione Osteopati Italiani perché l'unione è quello che ci permette di poter arrivare ad obiettivi. Obiettivi sono tutela, riconoscimento e dare le competenze e le qualificazioni ai nostri associati.